Buongiorno, signora Laura, ecco qua. Va bene? Pettiamolo qua sopra addirittura, così. Ecco. Per una volta posso fare l'opinionista di me stesso, meglio, sul mio lavoro, perché io ho intuito cos'è successo. Il giornalismo ha lasciato il posto al cinismo, ma al cinismo proprio da quattro soldi, per cui o la, tra virgolette, notizia è strumentalizzabile, prodomo propria o prodomo qualche appartenenza o prodomo la propria pigliaccheria, oppure non viene presa in considerazione. Mi capita veramente oramai di... diciamo quasi tutti i giorni, per fortuna che ho il caffè, il mio blog, insomma, perché mi sono sentito dire, ma mi sembra quasi di essere infantile in questo, no? Perché è come se il mio modo di lavorare fosse rimasto fermo a tanti anni fa, no? È come se non avesse elaborato il trauma della propria fine e quindi non mi rassegno e continuo a provarci. Ma mi sono sentito dire delle frasi del tipo, no, guarda, questa cosa qui no, perché non è abbastanza di sinistra, non è corretta politicamente. Addirittura mi sono sentito dire, vabbè, ma noi siamo diventati meloniani. Penso che alla Meloni stessa faccia male, faccia incazzare questo, e penso che una persona seriamente di sinistra non possa limitare la libertà di espressione giornalistica. Però è diventata così. No, no, poi dopo magari quel politico la prende male, oppure quell'imprenditore, oppure quel sindacalista, oppure quel collega, c'è sempre qualcuno che di fronte alla verità la prende male. E allora, evviva Caterina Caselli, la verità, mi fa male, lo so.